Non c'è possibilità dal punto di vista economico di colmare quella che è una perdita così grande, però è così bello che ci sia stata così tanta vicinanza e quindi chiedo la possibilità all'euro parlamentare Tovaglieri, alla dottoressa Brianza della regione Lombardia e al comandante provinciale di consegnare le targhe insieme al dirigente nazionale Belvisi che poi le consegnerà direttamente alle famiglie con il contributo, Filippo se ti metti anche tu, una bella foto. A caldo chiedo anche un commento sia all'Avvocato Brianza che all'Avvocato Tovaglieri che hanno avuto sempre una particolare sensibilità per il corpo dei vigili del fuoco. Prego, fai certo. Ma intanto direi che c'è solo una parola che si può dire oggi e che le riassume tutte che è grazie. Grazie per un altro anno di grande lavoro, di grande impegno, di sacrifici, per tutto quello che date ai nostri territori. Siccome questa ricorrenza e la presenza di oltre 500 bambini significa quando si è ben percepita la vicinanza dei vigili del fuoco sul territorio. Quest'anno è un anno di particolare orgoglio, abbiamo appena presentato la valide e il sistema di rinno che è un dispositivo rivoluzionario che consente di ritracciare le persone in prima assenza della copertura telefonica, però questi strumenti che sicuramente dimostrano la professione della tecnologia che ormai c'è nei vigili del fuoco non sono nulla senza la competenza e l'esperenza di tutti i vigili del fuoco.